Il mare Il mare è un posto speciale, che sembra infinito. È un mondo speciale, che racchiude tante bellezze e ricordi. Qui ho incontrato chi mi sta accompagnando nella vita. Ho imparato a parlare con me stesso. Ho inseguito i miei sogni. Ho imparato il rispetto. È come quando i nostri sensi si accorgono dell'ambiente che ci circonda, attraverso il suono, il sapore, il profumo, ciò che vediamo e tocchiamo. Ecco cos'è il mare. Il luogo dove si incontrano le sensazioni. Le emozioni si trasformano nel tempo. Spesso maturano. Sta per sorgere un nuovo posto dove gioire di questo spettacolo della natura. Dove trascorrere degli attimi indimenticabili. Un nuovo luogo da vivere. In cui nasceranno nuove storie. La nostra città cresce. Guarda al futuro. La nostra città cresce. Guarda al futuro.